l'accordatore di pianoforte murkin un uomo del viso giallo il naso tabaccoso e lo vatta negli orecchi uscì dalla sua stanza nel corridoio e con voce tintinnante gridò semion cameriere e guardando la sua faccia spaventata si poteva pensare che gli fosse cascato addosso l'intonaco o che in camera sua avesse visto allora allora uno spettro di grazia semion prese a gritare scorgendo il cameriere che accorreva da lui che è ciò io sono un uomo reumatico infermuccio e tu mi costringe a uscire scalzo perché non mi dai ancora gli stivali dove sono semion entrò nella camera di murki guardò nel posto dove egli aveva l'abitudine di porre gli stivali ripuliti si grattò la nuca gli stivali non c'erano dove potrebbero essere i maledetti disse semion in serata mi sembra li pulì e li misi qui ieri confesso ho bevuto un po' è da supporre che li abbia messi in un'altra camera è proprio così Afanasi Yegoric in un'altra camera stivali ce n'è molti e in cimberli li distinguerà il diavolo se tu non hai la testa a segno devo averli messi dalla signora che alloggia qui accanto dall'attrice e ora per causa tua ho da andare dalla signora a disturbare eccomi per un'inezia a dover svegliare una brava donna sospirando e tossendo murki si accostò all'uscio della camera attigua e bussò cautamente che è si sentì di lì a un minuto una voce femminile sono io cominciò con voce querula murki mettendosi nella positura ad un cavaliere che parla con una signora del gran mondo scusate il disturbo signora ma io sono un uomo malattizzo o reumatico a me signora i dottori hanno ordinato di tenere i piedi al caldo tanto più che ora devo andare ad accordare un pianoforte dalla generalessa Sheveritzin non posso mica andarsi scalzo ma che volete che pianoforte non un pianoforte signora ma riguardo agli stivali quell'ignorante di Semyon ha pulito i miei stivali e per sbaglio li ha messi nella vostra stanza siate così gentile signora datemi i miei stivali chiudì un fruscio un salto dal letto e un ciabattare dopodiché l'uscio sciaprì un poco e una paffuta manina di donna gettò ai piedi di murki un paio di stivali l'accordatore ringraziò e si diressa in camera sua ma è strano mormorò calzando uno stivale si direbbe che non è lo stivale destro ma qui ci sono due stivali di sinistra sono tutte e due sinistri ascolta Semyon ma questi non sono i miei stivali i miei stivali sono con tiranti rossi e senza toppe e questi sono certi così rotti senza tiranti Semyon sollevò gli stivali li rigirò più volte davanti ai propri occhi e corrugò la fronte questi sono gli stivali di Pavel Alexandris burbottò guardando di sbieco egli era strabico dall'occhio sinistro che Pavel Alexandris un attore viene qua ogni martedì dunque è lui che invece dei suoi ha calzato i vostri vuol dire che in camera da lei ho messo le due paia i suoi e i vostri che bello impiccio allora va e cambiali salute sorrisse Semyon va e cambiali e dove ho da prenderlo adesso? è ormai un'ora che è uscito va a cercare il vento nei campi ma dove abita? e chi lo sa viene qua ogni martedì ma dove abiti noi non si sa viene per notte e aspettalo fino a un altro martedì ecco vedi? porco quel che hai combinato ebbene che devo fare adesso? e ora che io vada dalla generalessa Sheverizzi maledetto che sei i piedi mi si sono intirizziti cambiare di stivali non è cosa lunga calzate questi stivali camminateci fino a sera e stasera a teatro la domandate dell'attore Blistanoff se a teatro non volete andare toccherà aspettare quell'altro martedì solo i martedì viene qua ma perché mai ci sono qui due stivali sinistri? domandò l'accordatore prendendo con schifiltà gli stivali come Dio li mandò così li porta per povertà dove potrebbe prenderli l'attore? ma gli stivali che avete dico Pavel Alexandric è pura vergogna e lui dice taci dice e impallidisci in questi stessi stivali dice ho fatto le parti di conti e principi gente bizzarra artista in una parola se io fossi governatore o una qualche autorità prenderei tutti questi attori e via in prigione gemendo e facendo smorfie senza fine Murkin calzò a forza sulle proprie gambe i due stivali sinistri e zoppicando si avviò dalla generalessa Shevelizin l'intera giornata andò per la città accordò pianoforti e l'intera giornata gli parve che tutto il mondo guardasse i suoi piedi e ci vedesse su degli stivali con le toppe e i tacchi storti oltre alle torture morali gli toccò sperimentare anche quelle fisiche si buscò un callo a sera era in teatro davano Barbablu solo prima dell'ultimo atto e anche ciò grazie alla protezione di un conoscente flautista lo lasciarono passare dietro le quinte entrato nel camerino degli uomini li trovò tutto il personale maschile gli uni si travestivano altri si truccavano i terzi fumavano Barbablu stava con Rebobesh e gli mostrava una rivoltella comprala diceva Barbablu l'acquistai io stesso a Kursk per l'occasione per otto ebbene te la lascerò per sei un tiro notevole attenzione è carica potrai vedere il signor Blistanov domandò l'accordatore che era entrato sono proprio io si girò verso di lui Barbablu che cosa desiderate scusate signore il disturbo cominciò l'accordatore con voce implorante ma credete io sono un uomo malatizzo reumatico i dottori mi hanno ordinato di tenere i piedi caldi ma voi propriamente parlando che desiderate vedete continuò l'accordatore rivolgendosi a Barbablu già questa notte voi siete stato nelle camere immobiliate del mercato Butsayef al numero 64 via che tante sono soghignò Rebobesh al numero 64 ci abita mia moglie moglie? molto piacere Murkin sorrise è proprio la vostra consorte mi ha consegnato personalmente gli stivali del signore quando lui l'accordatore indicò Blistanoff fu uscito dalla stanza di lei io mi accorsi dei miei stivali ho una voce sapete al cameriere e il cameriere dice ma io signore i vostri stivali li ho messi al numero attiguo per sbaglio essendo in stato di brichezza aveva messo al numero 64 i miei stivali e i vostri si girò Murkin verso Blistanoff e voi lasciando ecco la consorte del signore avete calzato i miei ma voi cosa andate dicendo preferì Blistanoff e si accigliò ok siete venuto qui a far pettegolezzi niente affatto dio mi guardi non mi avete capito di che sto parlando io degli stivali avete pernottato non è vero al numero 64 quando questa notte e voi invece avete visto no non vi ho visto rispose Murkin in preda a vivo turbamento sedendo e cavandosi rapidamente gli stivali io non vi ho visto ma ecco la consorte di lui mi ha gettato fuori i vostri stivali ciò invece dei miei ma che diritto avete e grazie signore di affermare simili cose non parlo già di me ma voi offendete una donna e per di più in presenza di suo marito dietro le quinte si levò un tremendo baccano Rebobesh il marito offeso d'un tratto si imporporò e a tutta forza picchiò un pugno sulla tavola talchè nel camerino attivo due attrici si sentirono male e tu credi gli gritava Barbablu tu credi a questo mascalzone lo ammazzo come un cane vuoi lo vuoi ne farò una bistecca lo frantumerò e tutti coloro che passezzavan quella sera nel teatro comunale presso il teatro estivo narrano ora d'aver visto come prima del quarto atto si precipitò dal teatro per il viale principale un uomo scalzo del viso giallo e gli occhi pieni di sgomento lo rincorreva un individuo vestito da Barbablu con una rivoltella in mano quel che accade ulteriormente nessuno vide si sa soltanto che Murkin di poi dopo aver fatto conoscenza con Blistanoff per due settimane giacque malato e alle parole io sono un uomo maletizzo reumatico prese ad aggiungere ancora sono un uomo ferito per due settimane